Oggi 9 gennaio 2024, 17 anni fa. Steve Jobs presentava al pubblico l'ultima sfida targata Apple, l'iPhone. Cominciò da qui la grande rivoluzione nel modo di utilizzare il cellulare. Il progetto venne avviato tre anni prima dallo stesso Jobs, che chiese ai tecnici un telefonino dal design avveniristico, con un solo tasto e che si potesse controllare soltanto con le dita. Poi la memorabile presentazione sulle note di Feel Good di James Brown. Jobs salì sul palco con un abbigliamento chesuo al dolce vita e jeans. Una scelta di stile che è rimasta poi un aspetto identitario del personaggio. L'esordio era in linea con il clima, epico, di attesa alimentato nelle settimane antecedenti. «Siamo qui per scrivere un pezzo di storia», disse Jobs. E così fu.